Sono soprattutto i giovani destinatari del messaggio pasquale del nuovo Vescovo di Teramo, Don Lorenzo Leuzzi. Si appella a loro per ricordare che tutti noi siamo preceduti dal Cristo risorto, che ci prepara la strada verso la gioia. Certo la via non è sicura, non è senza ostacoli, ma la delusione non deve mai prendere sopravvento. Quest'anno il messaggio pasquale è diretto un pochino più ai giovani. Ogni mese, come ormai è tradizione, questa è la terza lettera che invio ai giovani, in un certo senso nella rete dei giovani c'è anche il messaggio a tutta la diocesi. E mi sono permesso di proporre ai giovani e soprattutto a tutti i cristiani, di scoprire cosa significa essere preceduti dal risorto. Cioè non è soltanto l'affermazione che lui non è più un essere poco, ma che lui continua, anzi, presegue la vita dei sessori di noi. Cosa significa la nostra esistenza vissuta con lui che presegue il nostro cammino? Tante volte mi permetto di ricordare ai giovani, quando torno la sera, che cosa resta della mia giornata? Che cosa resta dei miei giorni? Tanto impegno, tanto disponibilità. Ma poi, in una società globalizzata, questa domanda diventa sempre più drammatica. Tant'è vero che molti, dopo tanto impegno, restano delusi. C'è questa difficoltà di essere contenti della propria vita, c'è tanta insoddisfazione. Certamente per motivi legati a situazioni economico-finanziarie, a chi si lavora. Ma non è solo quello. È il senso di aver fatto qualcosa che per la fine non resta nulla. Ecco, essere preseduti dal Signore, dal risorto, significa poter camminare su una straga sulla quale io posso appoggiare i miei piedi, perché ha camminato già lui. E questo è il dono della risurrezione. Gesù è morto di risorto per questo, perché lui potesse presedersi e noi potessimo appoggiare i nostri piedi su quella straga che lui ha già percorso. Teramo, intanto, si prepara a vivere la Pasqua con le sue tradizioni, i sepolcri del giovedì santo e le due processioni del venerdì. La prima alle 4 di mattina, quando la Madonna cerca disperatamente suo figlio, e quella del pomeriggio, il ricordo del Cristo morto.